Ciao a tutti da Saludatori, eccoci qui, Nonna si produce un film, Walter Galibaldi il regista e qui i tre figli, i disgraziati, qui qua qua, di questa stranissima pellicola, devo dire che sono attori bravissimi e quindi li presentiamo, anzi io darei a loro questo trofeo a partire da lui che si presenta da solo, prego. Danilo D'Agostino, Nemo. E io chiero, Ivan, Mirko, e io chiero. E Raison Grumelli, l'apo. Ecco qua, allora, a breve uscirà questo film, cosa fate, cosa dite? Allora io devo ancora vederlo, uno, perché c'era dentro che sa quello che ha fatto. Quindi me lo so fatto raccontare, dai. Ecco. Qual era la domanda? Sempre quella di prima. Allora. Andiamo se è preparato. Qual era la domanda? Sempre quella di prima. Perfetto. Qual è la domanda? Quella di prima. Ok, allora lo scoprirete andandola a vedere al cinema. E abbiamo qui la mamma, abbiamo. Ecco. La mamma dei ragazzi, ci deve essere per forza, che è la figlia della magica nonna Gabriella Giorgelli. Eccola qua, la mamma. Ma tu sei la mamma? Io mi sono rinforzato prima, ragazzi. Non era la fidanzata di prima. Eccolo. Una mamma bellissima. Cosa fanno questi ragazzi? Ma fanno tanto allenamento. Facciamo i figli. Facciamo i figli. A volte al tempo perso facciamo i figli. Ma manca la nonna. Manca la nonna. La nonna a prendere. Andiamo subito così direttamente. Andiamo, 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 andiamo. Allora, il bello da dieta. Nadia, ormai andiamo. Ha chiamato la nonna, noi andiamo dalla nonna. Sì, 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 ecco. Il bello delle sorprese. Eccoci qui, cammineremo un pochino. Ecco qui ci troviamo a festeggiare. a festeggiare perché questa è una festa per la nonna, per nonno ci produce un film e la stiamo andando a prendere per festeggiare ecco qua ragazzi che sorpresa, ecco ecco la verdure, ecco qui, stiamo arrivando, ecco qui il bello di questa festa tutto sembra un labirinto, è il disco labirinto e siamo quasi arrivati, ecco qui, ecco qui la nonna, ecco Gabriella, Giorgelli c'è tua figlia, siamo qui per i fan, prego ecco qui, caramba che sorpresa qualcuno direbbe, come stai? recuperiamolo, recuperiamolo perché è importante, questo è l'incontro dopo un anno live, ragazzi questa è una sorpresa straordinaria, vieni prego, ecco, allora facciamo un saluto speciale a tutti i fan di questo film voi, voi soprattutto, ma anche del film che presto vedete, nel frattempo un figlio si sta sopra, il regista Walter De Angelis non è altro, garibaldi, 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 parete di garibaldi, eccolo qua, eccolo qua, prego prego infiltrato, infiltrato non lo so, un infiltrato che si è spacciato, tutti vogliono entrare nel cast, di nonna ci produce un film ecco qua, i fan, i fan, ecco, da Germania, salutiamo tutti, ciao buona sera, buona sera, buona sera, un figlio venuto da lontano, ciao, ecco qui ragazzi, ecco gli ospiti ecco qui, ecco qui, allora eccomi con Cassiano Marraffa, con Feriello Massimiliano, Carina, Claudia, Giuseppe Colobbo e? Prospero Ricchelli ci siamo tutti e la Giorgelli e la mitica Giorgelli, salutiamo tutti i fan ciao senza di voi il mondo non esiste viva la vita grande viva l'amore straordinario ciao salutiamo aiuto